E' permesso? Avanti, eh, ma... Buongiorno sul podologo. Buongiorno, sì, ma guardate, ci deve essere un errore, io non sono un podologo, mi scusi. Diamine! Lei non è mica quello che sa come si comportano i giovani tra di loro? Appunto, quindi sono uno psicologo. Psicologo specializzato nelle relazioni giovanili, ma non un podologo, mi scusi. Ah, mi scusi, mi scusi, mi sono sconfonduto, dottore. Dottor? Rimini, Rimini. Non siamo a Milano? Come, scusi? Ha detto Rimini. Rimini, Rimini è il mio nome. Ah, ho capito. Piacere, Valle d'Aosta. Non c'è un giro adesso? Ma no, io mi chiamo Valle d'Aosta, io! Va bene, signor Valle d'Aosta, e mi dica il perché è venuto da me. Allora, succede che praticamente i miei amici mi escludono, le ragazze non mi vogliono e non so il perché. Allora, devi sapere che al mio paese nessuno mi chiama con il mio nome. E come la chiamano, scusi? Vedi, dottor Miramare. Rimini. Non è Rimini. Eh, Miramare, Rimini ne stesso, signor. No, non è lo stesso, nome è importante, Rimini. Comunque, vada avanti. Ma davanti con il discorso. Allora, siamo in tre nella mia compagnia di amici e ci chiamiamo con lo stesso nome. Se le resta lì, non capisco niente di quello che dice. Torni indietro, per favore. Buongiorno sul podologo. Anzi, psicologo perché lei è psicologo. Torni indietro fisicamente, non con il discorso. Ma prima mi ha detto... Prima intendevo con il discorso, ora intendo fisicamente. Quindi torni indietro e poi vado avanti, per favore. Vediamo se riusciamo a... Ma cosa sta facendo? Cosa fa? Torni indietro fisicamente e vado avanti con il discorso. Ah, dovete rilì raccontare. Eh, certo. Vedrò che scrive... Avanti, dietro, avanti. Grazie. Grazie.